Questo outfit è una vacanza molto semplice, sette ragazzi, capitale estera, due notti, un po' di sgagno e si vanno. Ho provato già a guardare quel merda di curo, ma probabilmente mi ha già guardato lui perché mi ha scritto di scendere 5 minuti fa, io sono qua, e lui non c'è, e lui mi ha fottuto. E mi di più, per favore. Beh, un video? Quando lo chiamate, era qui. Allora, allora, un video basso. Facciamo fragili. E' ancora un video? No, 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 c'è la foto, la foto. Facciamo 10 minuti. Che ricco l'ho. Allora, adesso controllerò. Dimmi di più. Sto lavorando, bro. fashion budapest viking è che siamo vikinghi noi puoi fumare lino gritti che bello che non sono sei matto arrivi agli sbirri carcere dal 1990 no Figa? Figa! Gli antichi greci ci andavano! Sono in taxi che stiamo andando a casa. Però la città è tutta triste. Ci fa il sole, ci sta bene. Grazie a curo che ci hai trovato il video. Con quale delle tue otto fidanzati stai parlando? Ah, non ho dovuto dirlo. No, 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 chiudete gli occhi a Fede, chiudete gli occhi a Fede. Ma ce l'hanno già visto, bro, sei arrivato 10 minuti in ritardo. Dio, mamma, zitto, zitto. Non fatemi sbattare che picchia... Pesa piccolina. Pepperoni, pizza pori. Siamo popolari, dalle popolari. Siamo la vegetazione dell'Inghilteria. Jackson, cosa dici? Eh, swag. Eh, ci vediamo. Swag. Vediamo. Swag. Ti chiamo giù la ponte. Ecco. Ah, giusno. Ah, mamma mia. C'è una mamma mia. Oh, vivo. Allora, allora. 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 Oggi è mezzo. Sei in mezzo. Ma non c'è? Allora, passi. Figa, voi, ma che c'è? Vabbè, c'è? Vabbè, c'è? Vabbè, c'è? Vabbè, c'è? Apri, bro. Che è rimasto. Che è rimasto? Che è rimasto? Sì, è un top 3. Vabbè, giusto. Ti portavo qualche... Eh, mi sono positivi, devi tagliare quando mi inquadro, che casino! Non fare il gallo o il cedrone! Cosa? Cosa avete detto? Ragazzi, sono troppo in ansia, voglio vedere come fare la realtà! Vai, vai, bevi! Ordine 22-27, sono le 22-29, già tutto pronto! Butapest sta sfaccando! Cazzo, sono troppo felice! Guarda qua! Spaggato! Ragazzi, mandale Budapest diventa Budapestandole, solo per questi due giorni siamo in questo video! Siamo prontoooooo! No, no, questo video non si può fare ancora, grazie! Salutiamo ufficialmente mio fratello, che torna in Italia, è stato un piacere, come si solo dire a Budapest! Mandale! All'inomento solo chiamare! Mandale! A Budapest si dice, mandale! Secondo e anche ultimo giorno qua a Budapest! Oggi sono già alle tre e mezza del pomeriggio, andiamo a mangiare qualcosa, facciamo un giro e poi stasera andiamo in altri discoti che hanno ancora capito! Ciao! Guarda, non saranno mica le piadine più torea di tutta Budapest! Un po', un po', fasticosa! Dici! Un po', un po' così! Ma poi c'è il video dove c'è... Stiamo andando in un posto esotico! Chi si chiama? Si chiama Castello di Budapest! Cazzo gliene frega Jackson Sir Russo, il capo della trappola! Siamo qua, il papi di famiglia ci ha portato! E il papi di famiglia sei tu eh! Che hai cacciato i soldi, godo! Sì, andiamo! Bravo bro, sei riuscito a dire una cosa da non tagliare nel video! Non bannabile, dici? No, che... E se dico... Vai! Aia! Aaaaaaah! Volevo che si... Stamare parola, faccio un po' sproduzione, metto tipo... Gli momento! Nooo! Stamare parola, faccio un po' sproduzione! Stamare parola, faccio un po' sproduzione! Stamare parola, faccio un po' sproduzione! Capitano America! Si? Gigi pescheria! Guarda sinistra la fede, guarda sinistra la fede! Ti fa sembrare Krilin? Krilin! Sì! No! Che è successo? Ho queste due sveglie! Ho due sveglie! Dio! Dio! Ma questo non è l'ultimo! Ma questo non è l'ultimo! Andi coraggio! Lascialo andare! No, no, no! No, 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 no! No, no, no! Ti sono appena ammesso, bro! Mamma che l'erciata, bro! Fuori di testo! E poi siamo in giro a vedere sti marcioni! Uno dovrebbe essere pieno! 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 Sabato sera! Vuoto! Non c'è una persona! Ad oggi! Ad oggi! Non si scherza! Fai l'intro del giorno 3! Spiega che giorno è oggi, cosa stiamo facendo! Bella a tutti ragazzi! Oggi! Spiega la situazione! Ah, devo spiegare la situazione! E' la procurazione! Punto numero uno! In aeroporto! Tranne il cuco che lui parte alle due per andare in aeroporto con il volo alle tre! Tranquillo! Ci arriva! Io arrivo! Andiamo in aeroporto! Scegliamo un bello star! Sicuramente! Aereo! Casa! Bamba! È stato divertente quello che ha detto! No! Bella raga! Giornale di parma! 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 Siamo qui! A Budapest a spaccare un po' di fighe! Siamo chiamati! Ahahahahahahahaha! Giornale di parma! Siamo grittimamente! Siamo in un giorno in statistics! YouTube è io! Ciao! Ciao, ciao, ciao! 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 Tu non l'hai seguito. Tu mi fai frutta. Tu mi fai frutta. Tu mi fai frutta. Yeah! Che best vacanza ever! Siamo qui, all'Around 4th Street. Stiamo cuocendo qualcosa. Niente. L'ultimo giorno. Sgagna l'abbiamo fatto. Figa, come al solito. Non l'abbiamo neanche viste. E basta. Adesso boh. Andiamo a mangiare qualcosa. Non l'abbiamo buona veramente vecchia. Vai, vai! No, no, io non devo andare a andare a casa. Solo le tre del poveriggio. Non so che bisogna andare a sette. Non sarebbe un poveriggio. Hai qualcosa da dire in camera? No, ce ne sono molti. Aiuto! Adesso, bravo. Ho indicato 50 euro a casa. Nella casa di Budapest. Il problema. Dual. Guarda, apri le gambe. Mi faccio così e ti prendo. Non ti colpisco. Ci vado molto vicino. Vai, vai, vai. Ma non ti finisce! Vacanza conclusa. Mi sono dimenticato di fare un outro. No, che brutta chiusura. Posso dire di essere stato anche in Bulgaria e... Posso dire di essere stato anche in Bulgaria e Budapest. E ora, ci vediamo nel prossimo viaggio. No. No.